Cari amici di itineraria agroalimentare d'Italia, in collaborazione con l'Associazione Culturale Basicale Today, a qui a Sant'Arcangelo nella Valle d'Agri e sono precisamente al convento francescano di Santa Maria di Orsoleo che è stato inserito ufficialmente dal direttivo dell'Associazione Basicale Today tra le tappe ufficiali della mostra itinerante Basilicata Viaggio nelle eccellenze culturali e gastronomiche. Il convento francescano del 1472, fantastico attrattore culturale, sarà una delle tappe della mostra itinerante Basilicata Viaggio nelle eccellenze culturali e gastronomiche, in collaborazione con la regione Basilicata e l'Associazione dei Lucani nel mondo. Quindi naturalmente è stata ufficializzata, entro fino aprile saranno presentate le tappe ufficiali. Nino Vitelli da itineraria agroalimentare d'Italia vi aspetta per la presentazione ufficiale delle tappe che sarà ufficializzata nel castello di Venusa entro e non oltre naturalmente il 15 del mese di aprile dove saranno presentate le tappe di questa mostra. Naturalmente è il programma ufficiale di questa mostra itinerante che poi si svolgerà anche in altre città italiane ed europee. Arrivederci alla prossima puntata.